Consegnere Pignoli, è stato presentato un progetto sulle energie alternative che come lista Teodoro vi vede patrocinare. Questa iniziativa di cosa si tratta? Sì, è un'iniziativa bella perché, come voi sapete, la lista Teodoro, oltre agli aspetti sociali, quindi ad aiutare le persone bisognose, cerca anche di venire incontro delle associazioni che presentano dei progetti buoni per la comunità. Questo è un progetto che ha un respiro a livello italiano, infatti in giovedì, venerdì, sabato e domenica prossima in tantissime piazze della nostra Italia, venneranno presentate dei progetti di misura alternative alla luce, cioè quello che sarà poi il prossimo futuro. In Pescara saranno posizionati quattro punti dove ci saranno dei volontari che spiegheranno in maniera tematica che cos'è l'energia alternativa, quali finalità ha e se anche i cittadini conoscono l'energia alternativa e come la conoscono, anche quindi un punto di informazione. Oltre a questo ci sarà anche il coinvolgimento di alcune scuole nella provincia di Pescara che parteciperanno anche a delle iniziative socio-culturali finalizzate appunto alla conoscenza di queste misure alternative. Quindi come l'Istatio d'Oro avete appoggiato in pieno questo progetto? Sì, assolutamente, abbiamo appoggiato, siamo fieri di averlo fatto.